Buongiorno a tutti! Sabato 15 giugno 2024 ed è anche l'ultimo giorno di questa settimana che abbiamo passato insieme sulle orme del Maestro. Come al solito cominciamo invocando il dono dello Spirito Santo e poi leggiamo il Vangelo che la liturgia di oggi ci propone. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Siamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti da 33 a 37. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto né per il cielo perché è il trono di Dio, né per la terra perché è lo sgabello dei Suoi piedi, né per Gerusalemme perché è la città del grande sovrano. Non giurare neppure per la tua testa perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. I Vangeli di questi giorni, lo avrete notato, hanno uno schema ricorrente. Gesù dice, avete inteso che fu detto agli antichi, non uccidere, non commettere adulterio, ma io vi dico. E Gesù rincara la dose, non bisogna neanche offendere il fratello, non bisogna neanche guardare con concupiscenza una donna. Appunto quello che diceva la frase programmatica all'inizio di queste antitesi, così vengono chiamate dagli esegeti. Se la vostra giustizia non supererà quella di scribi e farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi Gesù ci chiede una giustizia più profonda di quella che era semplicemente esteriore e materiale di scribi e farisei. E oggi c'è sul tavolo una questione che almeno apparentemente ci riguarda meno, la questione del giuramento. Ecco, gli ebrei erano soliti così a giurare molto spesso. Gesù dice non solo non bisogna giurare il falso, ma non bisogna giurare affatto. Non giurate affatto, dice. Ecco, io tradurrei così. Abbiate il pudore di non tirare Dio in mezzo nelle vostre beghe, nelle vostre questioni. Ecco, noi quando è che giuriamo? Di solito giuriamo nelle questioni importanti. Di solito, per esempio, si giura in tribunale. E perché si va in tribunale? Si va in tribunale di solito per questioni importanti, per capirci, per questioni deschei, perché poi alla fine, sempre là, si va a parare. Ecco, allora dice Gesù non giurare, cioè lasciamo stare Dio e non chiamiamolo a testimone delle nostre questioni deschei o di altro. Cioè, è vero che Dio si è fatto uomo e pertanto le nostre cose umane, le nostre questioni, non lo lasciano indifferente. Anche Gesù, il figlio di Dio fatto uomo, potrebbe sottoscrivere quella famosa frase del commediografo latino Terenzio, che dice omosum et umani nil a me alienum puto, che significa sono un uomo e non considero estraneo niente di quello che fa parte dell'esperienza umana. Ecco, quindi anche Gesù, il figlio di Dio che si è fatto uomo, ecco, è vicino a noi nelle nostre cose umane, e questo è vero, però è anche vero che Dio conserva pur sempre la sua trascendenza. Dio è oltre, Dio è al di là. E questa consapevolezza ci permette di non assolutizzare le cose del mondo, di non prenderle troppo sul serio, di relativizzarle, di non esserne troppo coinvolti, di saper prendere le distanze, di guardare anche le cose da un'altra prospettiva, guardarle dall'alto, dal punto di vista di Dio. Ecco, in questo senso forse non devo abbassare Dio al mio livello, ma piuttosto innalzare me stesso al suo livello, fermo restando che non arriveremo mai al suo livello. Ecco, un filosofo, Kierkegaard e altri con lui, parlava dell'infinita differenza qualitativa tra Dio e l'uomo. Cioè Dio è Dio e l'uomo è l'uomo, e tra loro c'è una distanza infinita. Poi Dio, bontà sua, ha deciso di colmare questa infinita distanza, e solo Lui poteva farlo. E così in Gesù Cristo noi possiamo parlare anche della infinita vicinanza di Dio all'uomo. Questo però non ci autorizza a ridurre Dio a misura delle nostre miserie e delle nostre beghe. Ecco, non a caso Gesù in questo brano del Vangelo usa delle bellissime espressioni teocentriche, come le avrebbe chiamate il compianto Don Antonio Marangon, un prete di Treviso che, ecco, per tanti preti anche di Vittorio Veneto è stato un grande maestro nella Sacra Scrittura. Ecco, queste espressioni teocentriche, cioè queste espressioni che sottolineano la centralità di Dio, il suo primato, la sua grandezza, ecco le rileggo, non giurate affatto né per il cielo perché è il trono di Dio, né per la terra perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme perché è la città del grande re. Ecco, Gesù qui, le sue espressioni non vanno prese alla lettera che la terra è lo sgabello dei piedi di Dio, semplicemente perché Dio non ha piedi, però capite che Gesù vuole sottolineare l'infinita grandezza di Dio. E poi c'è la frase, a mio avviso, più bella di questo Vangelo, non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Noi pensiamo soprattutto oggi di essere potenti, anzi quasi onnipotenti, praticamente dei padri perni, ma Gesù ridimensiona subito questo nostro delirio di onnipotenza. Basta vedere i capelli bianchi sulla nostra testa o vedere i capelli caduti sul lavabo, sul lavandino, e ci rendiamo conto che tutta la nostra pretesa potenza è illusoria. Ecco, non comandiamo neanche a uno solo dei nostri capelli. Davvero Dio è Dio e noi siamo ben poca cosa di fronte a Lui. Mi veniva quasi voglia di citare il Marchese del Grillo, ma meglio lasciare stare. Ecco, poi che Dio ci abbia elevati alla comunione con Lui, all'amicizia con Lui, questo è vero, ma ciò non toglie la bella differenza che c'è tra noi e Lui. Allora questo invito di Gesù a non giurare, ecco, penso ci ricordi che i nostri affari del mondo saranno pure importanti, ma Dio è tutta un'altra cosa. E ricordarci di questo forse ci aiuta a ricordare anche che i nostri affari del mondo sono importanti, sì, ma solo fino a un certo punto. Ci sono altre cose ben più importanti. Ecco io, al termine di questa settimana, vi ringrazio per l'attenzione, per la pazienza, vi saluto, vi auguro una buona domenica per domani, è un buon sabato per oggi, evidentemente, e vi auguro di proseguire bene questo percorso sempre sulle orme del Maestro. Vi, ecco, do alla fine la benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ame. E davvero vi auguro buone cose. Arrivederci, alla prossima. Ciao! 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 Grazie a tutti.